Ciao a tutti, sono Gianni Lombardi, ho 27 anni, sono un attivo concertista oltre ad essere un insegnante. Per me risuonare al piano siti sarebbe davvero molto bello, anche perché mi ha regolato delle bellissime emozioni quando ero ragazzino e mi farebbe davvero tanto piacere proporvi questo programma ricco di sfaccettature che a me personalmente entusiasma tantissimo e spero di riuscire a trasmettere delle belle emozioni anche al pubblico. Grazie! Grazie!